Dopo via Crispi, via Roma e via Guido Monaco, il prossimo boulevard cittadino a vedere la luce sarà quello in via Petrarca ad Arezzo. I lavori per un costo totale di 850 mila euro dovrebbero iniziare il prossimo maggio per concludersi entro metà dicembre. La riqualificazione complessiva di tutta la strada, quindi verranno rifatti i marciapiedi, l'illuminazione, le aree di sosta, più o meno sulla scia di interventi che sono stati fatti negli anni su via Petrarca, su via Roma e via Crispi e via Guido Monaco. La novità sta nel fatto che in via Petrarca vedremo delle aree di sosta sia in destra che in sinistra, verrà eliminato il parcheggio a rotazione, ci saranno delle importanti aree di carico e scarico e delle aree per disabili. Vedrà la realizzazione anche alcuni attraversamenti pedonali rialzati, in fatti specie saranno quattro, ci saranno soltanto due isole ecologiche quindi verranno accorpate in due aree estreme della strada e rispetto al progetto inizialmente previsto abbiamo accordato con la regione che verrà eliminata la pista ciclabile dal marciapiede e sarà sulla sede stradale in quanto questa sarà una vera e propria zona 30 dove il limite di velocità sarà limitato. L'amministrazione inoltre si è confrontata anche con i commercianti della zona. Sono state delle proposte e dei piccoli adeguamenti che sono andati incontro alle esigenze di alcuni operatori della strada, ricordiamo che non è una strada molto commerciale e quindi sono anche preoccupati per alcuni aspetti, però sicuramente un restyling e una riqualificazione complessiva non può che giovare all'attività della zona, anche perché se tutto andrà come speriamo e dovessimo rimettere in funzione in maniera seria il parcheggio baldaccio, quella strada dovrebbe essere una via di accesso alla città molto importante. Alcune novità ai commercianti potrebbe portarle anche il nuovo regolamento COSA, ovvero il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche. Il nuovo regolamento di suolo pubblico permette l'esenzione totale per un anno in caso di un progetto unitario da parte di un'intera strada o piazza, quindi secondo me questa potrebbe essere l'occasione subito per mettere a frutto questa nuova regola, quindi anche per i commercianti avere comunque un pochino più di fiato, magari per investire un pochino più nei materiali o comunque nelle varie attività che vogliono fare nel suolo pubblico. Grazie.